ciao a tutti ragazzi io sanno sì io sono sauro urlatore dei megadinosauri e oggi faremo una boxing dopo il grande successo dopo il grande successo del nostro film i megadinosauri versus Godzilla volevo festeggiare l'evento facendo una boxing e in questa boxing ho invitato un ospite un ospite che avete visto del del secondo film lo sapete di chi sto parlando beh ora ve lo faccio vedere subito oggi in questa boxing abbiamo invitato raptor ciao a tutti ragazzi esatto ragazzi oggi in questa boxing ci farà compagnia raptor il nuovo personaggio dei megadinosauri insieme agli altri due ovviamente che posta apriremo oggi sauro urlatore grazie per avermelo chiesto raptor bene oggi scarteremo una delle buste di epic animals animali selvaggi cioè scusate volevo dire epic animals creature pericolose wow ho sentito parlare degli epic animals sì se vi ricordate praticamente gli epic animals erano anche della nostra scorsa boxing ovvero della boxing ovvero della boxing degli epic animals animali selvaggi qui invece scarteremo una delle buste di epic animals creature pericolose oh ciao papà sauro urlatore cosa state facendo tu e raptor una boxing cosa ma io ti avevo detto di smettere sauro urlatore e papà quante volte ti devo far capire che mi piace sauro urlatore non capisci che questo canale è dedicato ai dinosauri e alle recensioni e dai però che palle voglio festeggiare l'evento dei megadinosauri vs Godzilla con una boxing no aspetta fammi capire tu volevi festeggiare il grande successo del nostro secondo film facendo una boxing sì esatto ma sauro urlatore come osi cioè io ti ho già detto della scorsa boxing di non farle più e dai però volevo festeggiare l'evento facendo una boxing cioè sauro urlatore sei veramente fastidioso cioè a volte non riesco proprio a capirti da quando abbiamo fatto quella boxing dei letranimals tu sei messo a fare sempre a boxing cioè è proprio diventato un hobby per te eeeh che fa? io ho visto tantissimi youtuber come arex e vastatore che fanno le unboxing ma quel canale di Dino Power è praticamente Dino Power è un canale per bambini non per dinosauri che ci vogliamo mettere a fare le cose per bambini? però dai volevo anche fare diciamo che la boxing non sono solo per i ragazzi ma anche per i bambini no aspetta fammi capire tu volevi anche attirare i bambini su questo canale? sì ma sauro urlatore e va bene ti concedo di fare questa boxing ma non le fare più ok? ok dopo tutto cosa potrebbe andare storto? e ciù oh mio zio oh mio zio telecamera man passami della mochina subito oh amore mio amuchina per favore salvami tu fammi lavare le mani per bene con la mochina ecco fatto ah meno male che io faccio scorta della mochina altrimenti io sarei il contagiato da questo coronavirus uffa papà cioè sei veramente esagerato da quando da quando è scoppiata questa epidemia del coronavirus sei veramente cambiato cioè quando qualcuno ti fa una stretta di mano subito dopo ti metti della mochina sulle mani io non ti capisco proprio sauro urlatore tu non puoi capire questa nuova influenza che è venuta potrebbe ucciderci tutti noi e anche tutto il mondo eh sì sì vabbè esagerato perciò io faccio scorta di amuchina per non essere infettato dal coronavirus per non morire ragazzi vogliamo fare questa boxing che mi sto scocciando ah sì scusa raptor bene chi apre la busta? vorrei aprirla io bene allora accomodati accomodati pure grazie sauro urlatore ehm ok come si apre questa busta? come come si apre? è semplice devi tirare quel gancetto sopra la bustina così si aprirà e vedremo cosa c'è dentro oh ok dai forza raptor apri la busta bene l'ho aperta bene chi tira la sorpresa da dentro la busta? io wow cavolo raptor sei veramente molto coraggioso eh ma che ti credi sauro urlatore raptor è uno dei megadinosauri più coraggiosi del mondo è il membro della squadra più coraggioso che abbiamo bene fammelo tirare fuori wow è bellissimo wow che cos'è? semplice sauro urlatore questo è uno questo è uno squalo bianco wow è incredibile gli squali sono i miei animali preferiti strano ma non abbiamo anche ma non abbiamo anche trovato uno squalo della boxing nella boxing precedente dei dominatori dei tropici e chi se ne frega questo è più bello ragazzi si può sapere cosa gli è preso? non lo so secondo me avrà bisogno di un po' d'acqua secondo me si non vi preoccupate ragazzi ce l'ho wow si sta proprio divertendo già è proprio vero e già ragazzi devo dire la verità questo squalo secondo me si sta proprio divertendo della sua piccola piscinetta ebbene cosa facciamo la concludiamo qui si tanto il video è finito bene ragazzi la boxing di oggi finisce qui mi raccomando iscrivetevi a Ghettano al suo canale de rosa e attivate la campanellina delle notifiche per non prendervi nessun video noi ci rivedremo magari in un prossimo video e se vi siete persi mega dinosauri versus Godzilla andatevelo a rivedere soprattutto spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vedremo in un'altra boxing ciao 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 ciao